Oh, la sale di Rossano, che sono romano, e se non vi basta, sono pure della Steverino. Oh, mi raccomando, tu state per me un po' di mano, tu non lo sai che so, io, io sono lucantino, lucantino, dal verbo lucare, protestare, baccagliare, non te ne sai che quando c'è da difendere qualche tumo, con me la parola è poca, duri, sono troppe, io c'ho una lingua che taglia e cusci, e se c'hai qualche buco, te ce li metto pure nelle truppe, sentite a me, è meglio perdere l'amico che prende una buona risposta, dammi che vuoi, ne vedo l'amico, perché? Che amico, come li facciamo? Ma non le chiedo, io invece parlo in faccia, quando c'è una cosa da lì, non me la so tenere, mi schiappa, ma reggo davanti, ma mi schiappa di chiedere, e quando mi schiappa a me se senti, e come se senti, perché io parlo e straparlo contro gli potenti e gli fredenti, io sono il simbolo della libertà, della parola, della salita popolare, sono i figli del popolo di Mormora che non ha pazza e che non ci devo stare, a me non mi ha sfitta nessuno, io mica parlo, no, sogginio, motteggio, sì sì, motteggio, e le motte mia, sono i motte deluditi, le motte mia e le motte vostre, l'anno di me le motte di chi ce l'ho male, dice, 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 arrantiva, perché la gente li chiamava sempre i figli a bollà, per parargli a finire i cazzini, a succhiazzare quella povera gente, che è il vento di vista, dice, dice, c'ho il padrone mio, il signor Conti, allora ancora mi deve dare 18 mesi di stipendio, io guardo il giorno, lui mi fa, arrantiva, vado a tutto, vado a te e a te, lo stipendio, corri, 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 e ce lo so che corri, ma con le cosiddette che non riesco mai a pagare, ti appaglio, ti hai visto, dovete sapere, che persino l'ambasciatore dell'Ineraboli mi ha chiamato a fare uno spettacolo al palazzo suo, dice, dice, però non mi raccomando, non devi fare con la bocca questi lezzi che sono tanto volgati, eccellenza, ma se lei vedeva le bernacchi, l'alte mia aiuta meno male, beh, ti prometterò di farne una, ma mi raccomando, una soltanto, e defatti, a sire della regia, come annuncio, su eccellenza l'ambasciatore intervegno di Gapri, una sorba di parte male le grie, ma scalzone, come ti sei permesso, ma eccellenza, lei mi ha detto, che un ago devo fare, ma proprio sul mio nome, e ce la pensa, ci stava proprio bene, dice, e poi che t'hanno fatto? A me, a me niente, perché io sono la potenza, io faccio paura, faccio paura, mostro tutto qui, dunque, faccio paura, addirittura quando... addirittura, se c'è da fare un consenso volare, devo non fare molti con me, addirittura quando un altro giorno arrivato in visita il sultano turco, quello, come si chiama, Alimor, e allora che vado a me, dice ma guarda che è quello che poi gli piace, ti butta le punite d'oro dalla finestra, sulla gente, sulla folle che lo acclama, gli ho organizzato un coro di popolo, Alimor, dacci loro, ma il sultano si è offeso, state buoni, armandatevi guardi, mi hanno aggantato, mi hanno ammortato le botti, quante me ne hanno d'arte, si ma quante io ne ho dite, ho un futuro di saperlo, perché io sono buono e caro, io sono buono e dannanguera, basta di metterle l'arma, io vio e parto, o un'arma qualunque, anche un timperino, se non basta il timperino, mi vio il pugnale, e se non basta il timperino, mi vio la spada, ghiaccia, e se non basta il timperino, mi vio la pistola, e se non basta il timperino, mi vio la pistola, e se non basta il timperino, mi vio la pistola, mi vio il fucile, e se non basta il timperino, mi vio la pistola, mi vio la carabina, e se non basta il timperino, mi vio la pistola, mi vio la carabina, più la colubrina, e se non basta il timperino, mi vio la pistola, mi vio la pistola, mi vio la carabina, più la spicchiata, e se non Se non basta il tipo il pugnale asspettare assicadere la bombata è più pitturarijema. Non basta il tipo il pugnale asspettare assicadere solo il pugnale assicadere la bombata è chi è pitturaня. No, bravo. Perché? Io me ne ho racchiava. Perché pur di che avevo messo io. Bravo!